Abbiamo visto scommesse emozionanti, divertenti, esilaranti. Ci hanno tenuto col fiato sospeso. O la va, o la spacca. 3, 2, 1, vai, vai! Ospiti nell'ultima puntata con Michelle Unzichere e Aurora Ramazzotti, Katia Follesa, Alvin, Iva Zanicchi, Simona Ventura, Mago Forrest, Vittorio Brumotti, Bianca Azei. Vuoi scommettere? Giovedì, in prima serata, su Canale 5.